Sì, direi non poteva esserci battessimo migliore per poter incontrare la città e incominciare ad avere un rapporto costante partendo dai giovani e dalle politiche giovanili per mettere i giovani al centro da protagonisti e non per strumentalizzarli ai fini di una politica che in questi ultimi anni ha provato a travestirsi da giovane ma a continuare con una metodologia che a noi non interessa e non piace. Questo è un percorso che inizia per le amministrative 2021 con una pattuglia parlamentare del Movimento 5 Stelle rappresentata dal sottoscritto come portavoce alla Camera e dai due sottosegretari di Stato Angelo Tofalo per la difesa e Andrea Cioffi per lo sviluppo economico che vuole portare avanti un discorso compatto, coeso anche con chi ha lavorato non alla ricerca della visibilità o delle ambizioni personali ma ha lavorato sui temi e li ha messi al centro per un reale cambiamento di questa città. E l'incontro conferenza stampa di questa mattina del meetup di Salerno con la presenza di Nicola Provenza parlamentare della Repubblica alla Camera dei Deputati è stata l'occasione anche per ribadire il sostegno al grande impegno del ministro Giulia Grillo per superare il blocco delle assunzioni nella sanità imposto dal 2009 a tutto il Servizio Sanitario Nazionale In Campania i problemi sono ulteriormente aggravati per la carenza di personale In particolare dopo l'approvazione del decretone che è avvenuto ovviamente la scorsa settimana si è posto il problema di assicurare uno sblocco delle assunzioni in sanità perché con quota 100 sicuramente ci può essere una riduzione del personale la carenza di personale è uno dei problemi che porta discrasie nell'ambito dell'erogazione dei servizi la mia interrogazione ovviamente era rivolta al ministro Grillo per tutelare sia le regioni in equilibrio di bilancio ma anche e soprattutto quelle in piano di rientro questo tema è stato affrontato in un tavolo istituzionale dal ministro pochi giorni dopo fino ad arrivare allo sblocco delle assunzioni in sanità un passaggio epocale visto che da dieci anni questo tema non veniva assolutamente toccato da nessuno e questo è un segno di un governo che vuole cambiare anche toccando delle materie sensibili ma che devono impattare con la vita reale dei cittadini